Una risposta importante a tutto il mondo sportivo, quella che sarà fornita dal Centro Chirurgico Toscano a partire dal 2023. Un servizio di pronto soccorso per tutti i piccoli traumi. Parliamo del momento in cui uno sportivo dilettante o professionista che sia si fa male durante l'allenamento o durante la partita, durante la gara. Se vorrà, dal primo gennaio potrà venire al primo soccorso del Centro Chirurgico Toscano, dichiarare che è uno sportivo attesserato con una società sportiva, riceverà le prestazioni che si ricevono in tutti i pronto soccorso d'Italia, del mondo, compresa ovviamente la visita ortopedica. Dopodiché, se vorrà, potrà rivolgersi a uno dei 7-8 istituti convenzionati di fisioterapia, convenzionati con questa iniziativa, che hanno aderito a questa iniziativa, diffusi in tutta la provincia di Arezzo, che inizierà da subito la riabilitazione post-trauma. Tutto questo a prezzi, non può essere convenzionato dal pubblico, ma a prezzi veramente stracciati. Dico una cifra per tutte, tutta la prestazione di primo soccorso, se si tratta di un atleta, costerà 40 euro. C'è un limite di età, cioè per i minorenni, per i maggiorenni? No, non c'è nessun limite di età, basta che sia uno sportivo che è tesserato con una delle tantissime società sportive della nostra provincia. Dalla mattina alle 8 e mezzo, alla sera alle 7 e mezzo. Per sopprire certe lacune, a certi costi, a certe situazioni di disagio, che possono riguardare... Io non è che sto in Serie A con Arezzo, sto in Nazionale Direttante, ma in terza categoria stanno peggio. Quindi manca un riferimento, lo stiamo creando, mi sembra che il nostro direttore abbia usato parole correttissime. Stiamo creando un qualcosa che possa dare una risposta a costi bassi, che oggi dobbiamo guardare anche l'aspetto sociale. Però di alto significato sul piano professionalità, quindi alta professionalità a basso costo. È una filografia inglese, il miglior prodotto a minor costo. Cerchiamo di dare un ottimo prodotto a un costo basso, a una platea potenzialmente enorme. Un progetto portato avanti grazie anche alla collaborazione con il CONI. Sì, ringrazio il Centro Chirurgico Toscano per questa iniziativa, che sicuramente è un progetto di supporto a tutto il mondo sportivo. E quindi tutto quello che agevole, favorisce il recupero funzionale degli atleti infortunati, è di nostro interesse. Mi fa piacere di aver ricevuto queste informazioni, che sarà sicuramente trasferita a tutto il mondo sportivo, che poi è l'utente finale dell'idea. Come si è ripreso il mondo dello sport dopo il Covid? Sicuramente con una grande forza d'animo che non è mai mancata. Il grande entusiasmo che si era un po' sopito a causa della pandemia ha permesso di ripartire con grande entusiasmo. Anzi, se possibile, di allargare un certo tipo di attività, soprattutto quella all'aria aperta, che evidentemente hanno incontrato tanto favore nel periodo del lockdown, che quindi in questo momento sono quelle che vengono molto richieste dall'utenza. Quindi il mondo sportivo sta anche prospettando e favorendo questo tipo di attività.